Sinergia tra AIL e associazioni di categoria del territorio pescarese, confartigianato, confcommercio e confesercenti, in occasione dei punti soli da AIL con le uova di cioccolato, allestiti durante la giornata di Pasqua. A testimonianza del ruolo svolto dall'Associazione Italiana contro le eucemie, linfomi e mieloma, la Casa AIL, una struttura in via Rigopiano dedicata all'assistenza ravvicinata del paziente leucemico, come spiegato anche da Antonella De Angelis, presidente di AIL Abruzzo. Dal 2022 abbiamo avuto questo regalo, grazie alla sensibilità della confartigianato, confcommercio e confesercenti, per avere poi coinvolto gli esercenti a voler mostrare i prodotti delle nostre campagne, che sono le stelle di Natale, sogne di cioccolato, piuttosto ora che le uova, proprio perché sono campagne che sostengono l'AIL. Nella fattispecie l'AIL, la sezione di Pescara, il sostegno va a questa struttura che ospita gratuitamente i pazienti e i loro caregiver che si curano qui all'ospedale di Pescara. Far sapere veramente alla città, che tra l'altro abbiamo 25 punti vendita tra il Pescarese e Chieti, che ci siamo e ci siamo proprio per le persone che non sanno. Io ho saputo recentemente di un paziente che ha fatto avanti e indietro dal Chietino a qui, facendosi tanti chilometri per curarsi. Quindi è importante parlarne per far sapere loro che ci siamo e che possono vivere la malattia in una struttura con delle persone che si dedicano a loro. Questa casa ha, per esempio, tantissimi pannelli fotovoltaici, ha delle cucine professionali, 11 camere, ogni camera ha uno spazio proprio in cucina, c'è un bellissimo punto di raccolta. Insomma, questa sala qui che serve anche per i pazienti per ascoltare musica. È stata un'opera veramente grandiosa che ha una certificazione di qualità a livello nazionale. 83 sono le sezioni Aile, solo 32 hanno la casa Aile e noi siamo una delle case più belle.